su cubo una mattina era su cubi come qbert che canzone era marco no non ce l'ho caparezza non lo so si ma caparezza quindi se era su cubi come qbert era a biura di me a biura di me era mai sono diventato anziano caparezza ma ti dico la verità lo sai che le ultime canzoni che ho ascoltato di caparezza cioè quelle che ho in playlist di caparezza ho resettato tutto e ho messo solo 709 e qualcosina di delle canzoni vecchie che mi piacevano più tipo dalla parte del toro di altri album ma best off miei e poi non ho più ascoltato ex uvia no mi piace ex uvia in realtà l'ho ascoltato per tantissimo tempo forse proprio per quello l'ho ascoltato però mi era piaciuto io l'ho detto a me è piaciuto di più 709 però ex uvia l'ho è tantissima roba però caparezza ha fatto sempre un album eccellente e un album un po meno che poi l'album un po meno è comunque superiore a chiunque altro sì quindi ex uvia è molto bello per carità di dio effettivamente anche me ex uvia c'ha delle nel complesso mi è piaciuto di più 709 però ex uvia c'ha delle canzoni molto belle no perché ecco verità supposte verità supposte lo ascolto spesso in uno del 2003 l'album del 2003 io quello con vengo dalla luna ma fuori dal tunnel ma che poi fuori dal tunnel e vengo dalla luna non l'ascolto mai ma fuori dal tunnel perché era quella più quella che sentivi ovunque sì sì però effettivamente vengo dalla luna e fuori dal tunnel non l'ascolto mai le schippo sempre perché mi sono rotto le palle le schippo sempre appunto nel paese dei balordi l'età dei figuranti l'età dei figuranti è la mia preferita dell'album troppo bella l'età dei figuranti è avanti cent'anni che parlava già della televisione trash della merdaccia in genere veramente un genio e a me probabilmente il mio preferito di album è il sogno eretico e io ti dico sempre 709 mi sa è quello che mi ha emozionato di più però anche 709 perché era il primo di quelli intimi che ti parlava dei suoi problemi e dei suoi casini diciamo dei vecchi ma io ho gli aeroplani che mi passano sopra la testa ma non sono a Monza quindi non so è frecce e tricolone sono non lo so però è da stamattina che mi passano sulla testa sono un po' di differenti no credo siano credo siano elicotteri come può essere credo sono un po' suoni diversi eh ma la mattina ero rimbambito stamattina però sì sono elicotteri non capisco però perché perché qua non c'entro eh ho capito ma da qua lo sento grazie Bobby sono mezz'ora di mani non ho l'acqua dopo devo assolutamente riempirmi mi è mi è bere quel che c'è stanno sorvegliando il capo probabilmente per sicurezza non è per quello intanto amici mi raccomando salvate il nostro link di amazon eh fate la sub mi raccomando c'è il september adesso vediamo chi ha vinto il giveaway e mi raccomando anche cos'altro vi dovevo dire c'era un'altra roba da ricordarvi va bene non importa no senti senti gli elicotteri no non lo sentite probabilmente oggi ho messo la maglietta playstation per starfield naturalmente per far rosicare un pochino i sudali è già disponibile il nuovo giveaway ha vinto jackie che ha già riscattato il gioco oh cosa ha riscattato credo sia ah si ha preso armored core 6 bene vedete che si può vincere e partecipate in realtà non l'ho finito sono arrivato al boss finale di già è troppo di ma non è lungo è fortino armored core cinque ore non è vero cioè hanno detto cinque ore ma io almeno quindici ci hanno messe credo boss finale però è un po' troppo difficile sono tutti sopra mezz'ora da monza sono gli elicotteri io che sono qua a cinque minuti che strano rumore marco questo era veramente un nazgule ma io come faccio a vivere così eh ora oggi claudia ma basta ma cosa stanno facendo ma io posso vivere in questo stato senti che rumori sono ma era ma è infinito ma poi c'è pure l'elicottero ma poi c'è pure l'elicottero non è così tutti qua davanti sono tutti qua davanti sono arriva quello che fa l'erba adesso non il drogato amici dico proprio l'addetto eh zitto cimax cimax e stavo non zittire la gente stavo stringendo fatemi sigla no che forse ha chiesto per ottobre c'è xuder ci doveva arrivare la mail no perché mi pare che io visto che ha fatto il forum ma c'è scritto ottobre però noi potremmo già chiederla da settembre vabbè cambia poco c'è il bon xuderone in home page oddio settembre c'è la settembre ma vabbè ottobre almeno è più lungo sì non è che ti cambia chissà cosa a settembre per la home credo no mi interessa più fare la 12 ore che magari sai uno si concentra lì però la puoi chiedere comunque possiamo chiedergli come tre ore solito ci lo scrivo già lì ciao Dabo grazie Dabone che twist key e con questa sub andiamo subito a raccattare le notizie di oggi la prima la devo assolutamente leggere io la prima delle notizie c'è scritto che oggi il termogiornale è supportato dal subtember il settembre delle sub se siete nuovi se non avete la sub attiva potete subarvi con il 25 per cento di sconto potete fare direttamente sei mesi perché ne pagate quattro anche eventualmente che comunque è molto interessante risparmio è più grosso se ne prendete di più mi raccomando amici se fate sei mesi due mesi ve li regalano quindi fate quello in caso che c'è utile a noi perché ci avete la sub più più mesi e voi perché risparmiate due mesi quindi tanta roba allora cos'è successo a Napoli ci tengo a specificare perché poi ogni volta ci sono i meme ma effettivamente è successo a Napoli durante l'asta del fantacalcio hanno accoltellato un quindicenne probabilmente perché gli alzavano i giocatori e rischia di rimanere ferito permanentemente alla gamba da quello che ho capito non è Gali non è Gali non c'entra niente Gali tra l'altro ho letto che era un quindicenne a me questa cosa mi ha fatto veramente era brividire però vabbè poco cambia zona orientale di Napoli durante l'asta del fantacalcio boh mora a riso vabbè posso capire però è terrificante è surreale è surreale è surreale indipendente Bobby chi? cos'ha detto? Bobby è indipendente no Bobby si indipendente forse no indipendente ti ringraziamo adesso bellissimo comunque Venezia raggiunge la pista di decollo per fumare una sigaretta all'aeroporto Marco Polo multa di 2000 euro a un passeggero ma perché è dovuto andare lì? è per fumare la sigaretta no e appunto era necessario arrivare in quella postazione è perché credo sia cioè è uscito fuori ed era sulla pista ah beh cioè non penso fosse proprio sulla pista dove passano gli aerei credo cioè è uscito cioè non lo so eh pista di decollo credo sia tutta l'area quella lì ma a quanto pare non riuscivano a resistere senza sigarette e spinti dalla stessa impellenza un'altra coppia hanno forzato le porte airside spostandosi in luoghi in cui si è veramente vietato fumare quindi hanno proprio preso le porte e hanno detto fammi fumare forzato non credo avranno aperto le porte quelle d'emergenza sì non potevano entrare l'uso di sigarette anche se elettronica all'interno delle infrastrutture aeroportuali è consentito esclusivamente in apposite aree ben delimitate invece loro erano in giro eh comunque il gatto da solo in casa apre il congelatore i proprietari in vacanza chiamano la polizia sgridatelo pure come? sgridatelo pure ma non credo comunque che siano autorizzati a sgridare un gattino e gli hai dato loro l'autorizzazione ha capito effettivamente se tipo sono fuori casa in vacanza c'è c'ho le ip camera per controllare dentro casa così vedo il gatto che mi apre il congelatore e mi può mandare a puttane tutta la roba dentro il congelatore sì se chiamo la polizia mi possono andare teoricamente no ma non è da chiamare i pompieri o cose del genere teoricamente sono cavoli tuoi la polizia non credo ti sprechi per intervenire o una cosa del genere ma in caso fosse non è da chiamare i pompieri non la polizia scusa è giusto quando c'hai un casino a casa che è bloccato qualcosa chiami i pompieri non è bloccato niente è comunque un incidente domestico e devono entrare in casa non dovresti chiamare i pompieri cioè non so quanto gli convenga cercare di risalvare le cose in frigorifero ma farsi sfondare la porta più che altro come sono entrati eh no per quello ti dico siccome c'era da sfondare probabilmente delle porte di solito si chiamano i pompieri sì se devono entrare in casa ed è chiusa e la chiave servono per forza i pompieri ma anche quando tipo rimani chiuso in ascensore e non hai magari qualcuno da chiamare in realtà viceversa anche se tu chiami i pompieri ma devono sfondare la porta ci deve essere comunque la polizia presente devono essere entrambi perché tu fai un'irruzione in casa quindi comunque ci deve essere la polizia sì perché comunque il pompiere non è un pubblico ufficiale no più che altro anche per sicurezza loro mettiti che magari c'è qualcosa dentro anche di pericoloso ci devono essere comunque la polizia oddio pubblico ufficiale c'è solo carabiniere polizia o anche altri enti? sicuramente anche altri enti non so i pompieri forse i pompieri sono pubblici non so credo sia sempre pubblico ufficiale quindi comunque a prescindere va a vedere non ha lo stesso ruolo però non lo so i militari, i vigili, la finanza pubblico ufficiale vediamo un po' quali sono pubblici ufficiali? coloro i quali esercitano una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e pompieri no allora sono come l'ambulanza i pompieri eh si praticamente i pubblici ufficiali sono scusa un avvocato anche il controllore un avvocato è pubblico ufficiale allora scusami o fare le multe legislativa si ma loro la applicano l'avvocato vabbè loro la applicano si si giudiziare quindi un giudice anche volendo perché un giudice magari anche delle si qua c'è un numero unico ma anche la in realtà l'altro sono 911 una volta anche medici e infermieri erano pubblici ufficiali non credo sia più così infatti si chiami il 112 ti mandano chi è necessario si effettivamente è solito così fanno loro poi ti smistano anche il controllore si fa le multe la prossima notizia è di quelle che ci piacciono a noi ragazzi eh la prossima notizia è tuercano sulle tombe dei soldati ucraini arrestate due sorelle poi le scuse nostro padre è sepolto lì lo diamo lo diamo eh vabbè poi smetti l'amore prova i preliminari di 50 sfumature di grigio ma non va come nel film la camera da letto prende fuoco scusami che sesso caloroso eh ma poi non è proprio mese per essere calorosi in quel senso secondo me però ciao ragazzi se volete una storia davvero estrema che abbia a che fare con il sesso ecco la mia voi raccontate la storia piglio fuoco e vabbè niente ragazzi non fate non fate queste cose se volete fare del sesso 8 comunque sia state tranquilli per favore non fate queste cose pericolosissime eh mi raccomando c'è gente che c'è morta per davvero tra fuochi soffocamenti e cose del genere state attenti intanto qua ci dicono here we go again titanic oh no nuova spedizione dopo il caso titan gli USA temono l'ennesima tragedia cosa prevede la legge federale ma scusa vabbè però alla fine se adesso ci sono altri sei cristiani che decidono di andare fattaci loro posso dire magari non sono più quelli del titan di no è un'altra azienda si ma il fatto è che ripetiamo come abbiamo detto per i tempi del titan quelli che hanno i sottomarini adatti perfettamente per andare in quelle profondità non sono questi qui appunto sono altri non è mica quello di steam quello che c'ha il sottomarino che può andare su si dicevano che era di valve gabe gabe era uno di quelli che aveva sottomarino se hanno già detto che i sottomarini professionali che vanno ma sono altri siamo sicuri che possono poi tra l'altro come appunto mi ha fatto venire in mente Mary tutti se hanno tirato in ballo la storia del controller xbox che in realtà è la cosa meno grave ma non è quello il problema perché ricordiamo che il controller xbox venne usato per comandare i sottomarini non era il controller xbox era comunque il controller era il primo logitech si ma comunque i controller i controller anche dell'xbox normale così li usano per controllare i sottomarini nucleari americani non è quello il problema beh magari contando che era un controller della logitech di vent'anni fa ti faceva capire tutta l'intera situazione però comunque li usano i controller si si sono comodi per vabbè vedremo se c'è un altro caso disastroso oppure questi lo sanno fare eh ma proseguiamo con notizia scientifica il suono del campo magnetico terrestre è la cosa più assurda che sentirai oggi c'è l'audio sotto eh sentiamo non c'è si 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 poi non c'è non c'è non c'è non c'è ma andò avanti secondo me parte un manza adesso è un manza adesso è starfield questo ha due luci incredibili sentire è un suonaglietto di un bambino bello sono affascinanti queste cose si ricorda un terremoto forte figo figo smetti l'amore la sistemica la boomerona ma il punto è lo stesso dell'altra volta che responsabilità tua Marco no non è lei il capo sai che può succedere no ma infatti Mary per quello inizialmente dicevo se questi altri cristiani vanno e succede qualcosa sinceramente allacchi ragazzi è successo adesso quel fatto lì ci vuoi andare lo stesso firmi tutti i documenti le cose vai muori e allacchi io che devo fare scusami di sicuro non ti piango io l'hai voluto tu vuoi fare tutto tu ma se sei in sicurezza no ma io ti sto dicendo e lo so però siccome è successo adesso l'altra cosa io non lo farei mai personalmente perché dico metti che succede un altro disastro perché vuol dire succedono incidenti in auto tutti i giorni non è che succedono incidenti in auto tu nella tua non ci vai più con la differenza che in auto in autostrada o in aereo è tutta roba collaudata da anni eccetera eccetera qua sotto quanto fare sottomarini però quelli che erano in sicurezza professionali erano stati elencati ma quel sottomarino lì era una merda e non mi pare io non ricordo questi sottomarini georgiani quando parlavano l'altra volta di quelli che possedevano i sottomarini atti ad andare lì su e che quello lì era una merda e loro erano dei cani se fanno una roba a modo cioè James Cameron ci ha dato giù più volte ma James Cameron aveva il sottomarino infatti è uno di quelli che ha detto noi avevamo il sottomarino adatto e che io non ricordo quando parlavano di queste cose qua aziende che facevano quel lavoro lì erano sempre di privati o comunque citavano un privato o qualcuno del genere in auto in aereo Rumi è uguale cioè nella storia sono capitati incenti d'aereo ma non è che allora non prendi più l'aereo perché ma l'aereo ti ripeto è una cosa diversa è testato eccetera questi qua non so magari sono testati non lo so magari sono testati semplicemente questo è come se prendessi un aereo costruito da te ma per quello ti ho detto siccome quella volta quando parlavano confido che non sarà questo quest'altro anche uguale glielo auguro quello che è schioppato perché se no sono dei coglioni io non lo farei io a prescindere non lo farei perché ti dico già di base è una cosa comunque sia pericolosa poi l'avevano trovato l'avevano trovato l'avevano trovato avevano trovato dei pezzi avevano trovato dei resti avevano detto di pezzi però non è detto neanche fossero del sottomarino avevano trovato ma non so se erano stai zitta ma la la banniamo oggi oggi è incontenibile io non so davvero che dire comunque selezione naturale come quelli che morivano su pokemon go la cina comunque ha scavato un buco profondo 6.000 metri nella crosta terrestre ma che è una cagata ma non è una roba di vecchissima ma a parte che è già successo infatti la cina ha fatto un grande salto un ambizioso progetto di trivelazione appunto ai 10.000 metri ho cercato il pozzo più profondo scavato dalla Russia ed è già a 12.000 metri quindi non sarebbe neanche un record ma a 10.000 metri non buchi la crosta terrestre scusa no no perché non è 10.000 sì ma quella sottomarina quindi tanto devi andare sul tato ah beh sai è 30 km mi pare va dei 10 ai 30 km mi pare variabile e vabbè cosa chiede letteralmente io ho il mare da piccolo la crosta terrestre si estende la cina sta ancora a quel momento dai 5 ai 70 km sì dai 5 però credo facciamo la buca più profonda sono lì che scavano la parte più sottile sono formate dalla crosta oceanica composta di densa roccia mafica che non è quella siciliana a base di silicati di alunie a uno spessore medio di 35 km quindi voglio arrivare sì a parte che noi su Terraria l'abbiamo già fatto roccia mafica sì intanto marco ti farà piacere sapere sesso con una mucca nella fattoria no ti dico giovane di 25 anni filmato dalla telecamera di sicurezza la gente questi vanno ricoverati però eh questi forse si andrebbero no a parte che infatti eh no perché è anche atti osceni quindi comunque al di là è stato arrestato quando il tribunale è condannato per la sua condotta oscena al 25 anni è iniziato un pianto disperato sì beh questo credo abbia problemi di altro tipo insomma bene godo vedi c'era l'agricoltore che era ha messo la telecamera lì proprio perché aveva sospetto che il bestiame venisse maltrattato e ha trovato quella roba è in ritardo per il volo e noleggio un elicottero fino all'aeroporto costa meno che comprare un altro biglietto ok che poi non credo sia standard come dipende non penso poi ah la battuta sotto il video di tiktok esiste un elicottero uber poi la prossima notizia è negli stati uniti esiste sì è così questo paese è stato inghiottito dalla roccia non esiste essere inghiottiti dalla roccia però ci hanno costruito dice ha i guantini viola li voglio anch'io ma è famosissimo ah no scusate non è quella la notizia Sete nel della Sbodegas praticamente si ha delle parti di paese dentro dentro una quasi una grotta nel senso che una dentro la montagna proprio avrete visto tra l'altro è abitato da 3.000 abitanti è abitato da 3.000 abitanti questo borgo attualmente io sono stato mangiato da una roccia non sei stato mangiato da una roccia ormai è veramente ingestibile è anche voglio vedere l'uomo con i guantini più belli del mondo la capsula del tempo che sembrava non contenere nulla e invece qualcosa c'era ha trovato 6 monete d'argento con data tra il 1795 e il 1828 e una medaglia di commemorazione che secondo la storia Jennifer Wöltschild potrebbe risalire a 1826 quindi hanno trovato una medaglia commemorativa e delle monete d'argento Wanama e poi l'avranno buttate via perché tanto non ce ne fai niente non ce ne fai niente Mini Godzilla l'avvistamento sott'acqua lascia sbalorditi i video ma è una tartaruga senza guscio però sembra effettivamente un Mini Godzilla Mini Godzilla aspetta che non ho visto la cacchata osteria ma cos'è ma non è una tartaruga scusami è una tartaruga senza guscio guarda quando si muove sotto ah bestia ma è un varano è un varano però c'ha la schina c'ha la gob madonna a me sembra una tartaruga senza guscio sembra effettivamente un Godzilla piccolino se lo trovi sott'acqua c'è viene un infarto c'è proprio il video anche si si c'è il video su Instagram si è un varano ha dei occhi stupendi ha veramente degli occhi stupendi madonna mia bellissimo ma la gente che scrive è terrificante ma tua mamma è terrificante ma stop al al qui al termogiornale delle notizie così e passiamo al no Gianluca non funziona momento di puro godimento eccoci qua ragazzi è oggi il giorno recensione starfield vai leggila tu no allora recensione starfield aspettate se no scattito devo aspettare un attimo eh si recensione è stato 10 la recensione di starfield che andremo poi a giocare tutto oggi ragazzi le hanno dato 10 meno un po' sì 8 e mezzo grazie Engie ciao bellissima allora ieri mi sono anche guardato un attimo la live di multiplayer che c'era recensura appunto che ne parlava della sua recensione robe così del perché del per come gli ha dato adesso il voto ha detto va bene la recensione è a cura di Lorenzo Mancosu che non è un giocatore di serie A o di serie B non mi ricordo più dove è Mancosu ma è un giornalista allora il problema sono i contro perché perché allora leggendo i contro io l'avrei detto meno di 8 e mezzo eh più che altro cioè allora in realtà no ci sta come voto ma sono gravi eh eh per il gioco che è sì però non è che non è che toglie la qualità è Dracula non lo so non credo il problema è Todd Howard che ha detto è Skyrim nello spazio ma non è assolutamente vero ma adesso e andiamo a vedere riscrivi allora i pro sono incredibilmente ricco di attività e virtualmente infinito grazie alle mod e questo per me è un conto è già questo infatti perché non devi costruire alle mod come una cosa nel gioco però ricco di attività effettivamente molto ricco quindi ci sta background del mondo eccellente art design eccezionale panorami mozzafiato questo va bene la scrittura della trama e delle fazioni supera di molto gli standard di Bethesda da vedere ricordiamo che Fallout 4 e Fallout 3 aveva lo stesso incipit praticamente quindi un pochino mi girava le palle ha detto che la narrazione è comunque molto buona qui quindi non ci sta cioè ci sta è molto è fico graficamente notevole e tecnicamente solido con bug quasi assente ha detto che anche i pochi bug che c'erano li ha risolti con la patch del day one sì però il graficamente notevole è ebbè no sembra bello non lo so ma le foto che ho visto non mi sembravano malissimo anzi chiaro non è vabbè poi quello lì dopo vediamo dopo vediamo Fallout 76 non so la trama comunque l'ho ottimizzato di merda io ho messo tutto a ultra ho messo io Fallout 76 la trama non ho idea di come sia stata perché l'abbiamo mollato prima però Fallout 4 e Fallout 3 per chi l'ha giocato lo sa era la stessa trama con un personaggio diverso ma era lo stesso incipit quella del 4 non me la ricordo nel 3 dovevi andare a trovare una persona nel 4 dovevi andare a trovare una persona cambiava la parentela ma è i stess cioè veramente uguale ecco più incollato i contro ragazzi è il primo è quello più eh dilaniante perché è esplorazione totalmente passiva basata su viaggi rapidi caricamenti filmati nel senso cosa significa che da quel che ho sentito poi dopo andiamo a vedere nel gioco insieme quanto è com'è però da quel che ha detto il recensore che non c'è delicatissimo grazie grazie delicatissimo no Thunder è il contrario nel senso che è proprio il contrario di nome Sky ci si aspettava uno Skyrim nello spazio appunto come ha detto Todauer ossia vai esplori scopri nuove cose nei mondi dungeon segreti loot robe tutte queste cose qui a quanto pare non c'è niente del genere cioè fuori dalle missioni di trama e le missioni secondarie non ci sono non c'è niente nei mondi essendo procedurali ci sono strutture ripetute nei mondi che non servono a nulla ed è tutto un pochino così nello spazio non c'è esplorazione nel senso che nello spazio neanche non c'è gioco perché quello mi dà fastidio non gioco spaziare e non giochi nello spazio l'unica l'unica parte in cui guidi la navicella e quando ti stai quando vai vicino al pianeta nel nel resto del gioco non la guidi neanche la navicella non puoi neanche fare cioè quando sei nello spazio non puoi neanche uscire dalla postazione di guida per andare a esplorare roba in giro così quindi quello è tutto un peccato ma vabbè in un gioco come un gioco Bethesda che non ci sia l'esplorazione di Bethesda per me è un problema immenso poi vediamo se tutto il resto comunque gli da infatti qua gli altri contro sono le strutture sui pianeti si ripetono identiche all'infinito la formula nello spazio e le sue dimensioni danneggiano alcuni dei maggiori punti forza di Bethesda nel senso appunto che non c'è non c'è non ci sono neanche basi spaziali sembra che non ci sia di nulla di tutto ciò si non è che puoi andare nello spazio dove ti para te cioè lo spazio è solo un viaggio rapido nel senso che tu vai dal pianeta devi andare all'altro pianeta parti fai il viaggio rapido e c'hai il momento c'hai un piccolo segmento di questo viaggio dove puoi guidare la navicella però non c'è nel mezzo non c'è niente ci può essere qualche incontro casuale tipo con dei pirati o con delle altre cose ma non è non c'è roba che puoi fare tu nello spazio capito non è nei commenti vedo la gente che ha ma allora nei commenti moltipline hanno fatto proprio spallucce dicendo vabbè se è solo un buon gioco me lo gioco lo stesso fondamentalmente riassunto è quello comunque nel game pass ok ma ci sono intorno i pianeti da una stella all'altro non c'è niente anche perché come potrebbe stare fermo è un gioco non basarti sulle leggi reali il mondo resta ancora eccessivamente statico di fronte alle scelte del giocatore questo è un pochino un problema dato da Baldur's Gate 3 forse che si è abituato in quel senso lì quindi adesso un pochino ti aspetti qualcosa in più però forse ancora è troppo presto no il fatto è che se tu prima dell'uscita del gioco mi dici delle cose tipo è come Skyrim io penso che girerò e troverò cose come Skyrim il problema lo sai qual è è che tu mi puoi dire è come Skyrim nello spazio quanto ti pare però il fatto è che Skyrim è una regione e tu camminando tu camminando impari tutto cioè ti affezioni a tutte le persone tutto cioè è contenuto ed è tutto lì qui essendoci migliaia di pianeti non puoi farlo no ok però me l'hai detto tu che sei il creatore ma infatti quella era una cazzata che doveva stare zitto io ti prendo assolutamente cioè se me lo dici tu che l'hai creato io ti prendo in parola secondo me stiamo capendo male nel senso che ieri Mottura parlava delle presenze di stazioni spaziali e di calcolarli come se fossero i dungeon di Skyrim quindi le stazioni spaziali effettivamente hanno una profondità di esplorazione sono che le trovi così o sono cose che ci vai di tramo di missione perché fuori dalle missioni secondarie e robe del genere dicevano che non c'era praticamente nulla è inutile andare a esplorare fuori trovavi una grotta entravi ed era un dungeon anche se non c'entravi mai né comprimare né con secondare qui probabilmente non c'è nulla esatto quello il discorso nel senso fuori dalle missioni così non c'è troppo motivo di andare a esplorare in giro perché non trovi prove i pianeti procedurali e robe così non hanno una storia tutte quelle cose non hanno una storia perché essendo procedurali essendo fatti per esserne tanti non hanno potuto mettere una storia no ma il Hiflex se si distaccasse da Skyrim cioè il discorso non è no ma hanno detto che Skyrim è lo spazio il fatto è che l'ha detto lui che l'ha creato se lui mi dice la sensazione sarà come Skyrim ovvero che vai esplori trovi io mi aspetto che sarò nello spazio ma avrò lo stesso divertimento nel trovare cose nuove che avevo in Skyrim e me l'hai detto tu quindi io ti prendo in parole è che me l'ha detto è un rumor di questo tweet me l'ha detto il creatore del gioco me l'ha detto quindi è normale che io mi faccio dell'aspettativa quindi io mi immagino che sia Skyrim nello spazio poi non guardate solo questo lato negativo che è molto negativo è veramente tanto negativo poi magari a voi non mi frega niente ci mancherebbe però il cioè da come ne han parlato comunque ha tantissimi altri pregi il gioco cioè addirittura qui dicono scrittura della trama che già è meglio degli altri a differenza di Skyrim e di Fallout dove tu sei il Dragonborn tu sei il figlio del capo hai un personaggio già fatto come ruolo qui invece il bello di qua e forse anche quella che fa rosicare di più sul fatto che non ci sia questa esplorazione è che qui il personaggio sei tu te lo fai proprio come un GDR vero te lo fai come cazzo ti pare quello è fighissimo per dire e da quanto ho capito c'è un sacco di roba da fare c'è scritto comunque del fatto delle mod che non è una cosa che va messa nei pro però boh magari effettivamente più avanti cioè una volta finito il gioco potrete comunque rimanerci a giocare quello può essere una cosa interessante non va considerata nel voto secondo me però è comunque di fatto se vi piace il gameplay eccetera potrebbe poter rimanere a giocare il contenuto creato a mano comunque è inerente alle alle quest se effettivamente Mottura come dice Ciscone ha detto che le stazioni spaziali sono simili a dei dungeon mi immagino che comunque quando mi fermere tende le spazioni le robe ci sono perché la trama principale e le secondarie ce ne sono per un sacco di ore di gioco no però appunto essendoci le stazioni spaziali come dungeon immagino che lì l'esplorazione ci sia quindi comunque l'esplorazione in quei frangenti ci sarà non ci sarà intesa come pianeta non sono libere sono sempre legate a una cosa non è che non ci sarà per niente esplorazione non ci sarà come ci si aspettava forse però comunque lì devi analizzare il dungeon esplorarlo vedere cosa c'è lì è comunque un'esplorazione però poi vediamo dopo comunque il resto delle cose ripeto è anche poi Mottura mi fido molto bello dicono poi vedremo magari mi rompo i coglioni spero di no perché lo aspettiamo da una vita anche sto gioco un po' topperia minima se i pianeti procedurali non hanno dungeon né altro a che servono e vedremo poi vedrete ragazzi credo solo raccogliere materiali però mi sembra strano veramente no men sky vabbè vedremo non so è no men sky secondo me qualcosa non c'era e anche lì dovevi andare a prendere triturare col pistolino sì però lì erano tutti così i pianeti sono men sky cioè trovavi le cose di quest in tutti i pianeti non era ma c'è il crafting in questo qui penso di sì ok e guarda vi leggo anche il paragrafo finale delle conclusioni Starfield è un'avventura colossale che proietta nello spazio l'esperienza maturata degli autori degli artisti di Bethesda trascinando nella cornice fantascientifica tutti i pregi ma anche i punti deboli della storica filosofia creativa non si tratta di un'esperienza che consente di navigare in tempo reale verso l'infinito e restare stregati dal senso di scoperta bensì di un vasto gioco di ruolo con i piedi per terra cucito direttamente sull'antica formula di Delder Scrolls capace di regalare centinaia di ore di intrattenimento a chiunque sia disposto ad accettarne le regole e i limiti i grandi miglioramenti che hanno toccato la narrazione e la componente tecnica assieme alla straordinaria molle di attività offerte sono infatti mitigati da un'esperienza disorganica da un'esplorazione scusami disorganica dalla proverbiale staticità del mondo e da alcuni residui del vecchio creation engine nel complesso è un enorme videogioco di qualità elevatissimo uno scrigno che racchiude la classica vita alternativa offerta da Bethesda ma la natura interstellare e le grezze dimensioni rischiano di indebolire la ricetta della casa io da questa recensione non capisco l'otto e mezzo continuo a dire poi vabbè non è mai no io lo capisco allora in realtà ci sta però perché purtroppo ci sta perché ha un ha un alto alto e un basso molto basso quindi si va a collocare lì secondo me sarebbe stato più da 8 però forse si in realtà cambia poco 8 e mezzo mai per giochi così importanti è un gioco relativamente basso che cavolo 8 e mezzo vabbè eh si per giochi così importanti è un gioco relativamente basso in ogni caso è nel pass ragazzi meglio così è un buon gioco meglio così se siete curiosi lo provate nel pass pagate molto meno sarà nella corsa goti ma è fuori cioè secondo me è già fuori rimane sempre ma il dito beh c'è da provarlo adesso lo proviamo e cos'altro c'è di notizie vediamo un po' ah hanno provato Super Mario Bros. Wonder che io ho visto ieri la il Direct mi ha davvero mi sta veramente mettendo a me che piacciono questi tipi di giochi mi sta mettendo davvero hype grazie Shack come dicevo ci sono stati altri due poteri quindi la trivella e le bolle oltre all'elefantina che era molto divertente molto memoso e vediamo il provato cosa dice dei ragazzi multiplayer allora nelle certezze hanno messo folle psichedelico e originale visivamente piacevolissimo concordo il sistema di spille è un'aggiunta intelligente come sempre i controlli sono impeccabili nei dubbi ancora non abbiamo visto momenti davvero sovversivi i livelli provati finora erano un po' troppo semplici che questo boh dal Direct in realtà alcuni mi sembravano un po' abbastanza incasinati quindi boh magari sono io che sono una sega quindi mi troverò difficili il multiplayer potrebbe avere perso un po' di pepe non credo lo proverò il multiplayer vedremo sono molto curioso quando è che esce tra l'altro prima che ha scritto che Digital Founder ha detto che è una merda Joker hanno detto che hanno fatto le analisi scende anche a 10 hanno detto è il miglior gioco Bethesda quando deve uscire quando deve uscire magari hanno calcolato hanno guardato con l'xbox non lo so vediamo un po' Mario Wonder il 20 ottobre ah c'è da aspettare ancora un po' va bene non so ah è uscita la recensione di Sea of Stars perché io spero anche su Series S è godibile è uscita la recensione di Sea of Stars che io non vedo l'ora lo traducano sperando lo traducano perché ne stanno parlando davvero bene c'è Viking che è proprio Goti ha detto subito e gli han dato 9 nei contro prima vi dico i contro i due protagonisti sono personaggi che emergono meno a livello di personalità male numero di magia abilità e equipaggiamenti un po' troppo ridotto lessico e punteggiatura dei dialoghi da rivedere che questa è più una forse è più una cosa cioè relativa al no non lo so pro direzione artistica fuori scala a livello sia grafico che musicale alcuni archi narrativi dei personaggi sono semplicemente spettacolari alcune soluzioni di game design adottate sono davvero interessanti il sistema delle reliquie è implementato in maniera eccellente boss e nemici ben caratterizzati e mai banali io ragazzi lo devo giocare questo gioco solo che lo voglio anche se hanno detto che è un inglese molto basilare soprattutto all'inizio lo voglio comunque preferirei averlo nella mia lingua speriamo che facciano un lavoro del genere comunque 9 e tanta roba 9 e tanta roba lo sto giocando da due giorni molto bello per quelli a cui piace il vecchio stile no ma c'è appunto Viking che ha dato proprio goti Marco ci sto giocando mi spiace per te in che senso tu ti inculli lui no ah beh si 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 comunque sul pass preoccupa parecchio esattamente come con Netflix ho paura che questa scusa faccia si che il pubblico inizia a contentarsi della mediocrità perché ok che Starfield sarà sicuramente un gioco competente in realtà è il contrario ti dirò da quando i giochi sono sul game pass la gente dice ok sul game pass lo provo e poi lo abbandona subito perché tanto non c'ha l'obbligo di cioè non si sente in obbligo di giocarlo perché l'ha pagato il gioco quindi se lo gioca e se gli fa cagare lo abbandona subito una persona normale o no ragazzi anche voi magari avete notato questa cosa qui io non lo so io la cosa del pass la vedo cioè il pass è diventato le nuove demo solo che le paghi un po' quindi in realtà provi il gioco vedi se ti piace in caso lo continui non vedo cioè non credo che la gente si stia accontentando col pass perché comunque spende un po' di soldi cioè è una demo non gratuita se vogliamo metterla come demo secondo me semplicemente il fatto di essere sul pass ti fa dire guarda anche se non è un gioco perfetto comunque voglio vedere com'è gli dai un po' di soldi non totalmente e poi se ti delude però lo dici cioè io vedo che la gente adesso guardo per esempio sotto i commenti di multiplayer che c'è gente comunque che gioca ma non è magari può anche fare l'effetto contatto però il gioco mi piace me lo compro no se sul game pass che cazzo te lo fai te lo compro no non ha senso sul game pass tanto lo puoi giocare tutto semplicemente lo paghi meno il fatto che io appunto vedo il game pass più come la nuova demo a pagamento più che tanto è sul game pass chi se ne frega si fa cagare poi vabbè il fatto che non è una cosa stupida quella che dici tu Adam potrebbe essere anche così potrebbe anche essere che la gente dice ma si tanto lo pago 13 euro frega niente se non è un capolavoro non lo so potrebbe essere anche così io la vedo più come il pass come nuove demo a pagamento che poi non sono demo perché lo giochi tutto però magari vuoi provare davvero quel gioco lì fai il pass per un titolo e magari per quel secondo terzo titolo lo usi come demo cioè ci giochi due o tre ore e basta però non lo so non lo so credo che non ci sia una risposta universale a questa cosa qui va un po' a sensazione c'è vedi con sti cavoli delle critiche se è un gioco che ti diverte che ti piace il mood che sei fan e che sei fan anche della Bethesda no è un discorso del cazzo questo sti cavoli delle critiche non lo devi dire mai no ci devono essere le critiche se no perché se sti cavoli delle critiche sei un fanboy e sei stupido se sei un fanboy perché le critiche se sono esatte cioè se sono critiche legittime non devi mai dire sti cavoli delle critiche poi se lo giochi il gioco è chiaro però sti cavoli delle critiche non esiste poi ci sono quelli che sono meno attenti a queste cose se lo godono lo stesso e va bene però è giunto è sempre buono tirare fuori il meglio anche dalle critiche cioè se sono critiche costruttive è bene tirar fuori il meglio no no critiche le hanno sempre fatte per qualsiasi gioco ma pokemon guarda che io ho adorato pokemon si incazzano così tanto proprio perché la gente io ho adorato ho adorato baldur's gate ma col cazzo che dico che è un bel gioco nell'atto 3 visto che era quasi ingiocabile mi ha era cioè delle volte era da strapparsi soggettivamente ci sta ma ci sta che uno soggettivamente mi dice guarda starfield mi è piaciuto lo stesso però mi dice lo stesso consapevole delle critiche ma infatti la recensione è un 8 e mezzo e i pregi cegli a tutti ha un enorme difetto che per molti può essere completamente debilitante per quanto riguarda il gioco quindi si tratta solo di essere onesti intellettualmente non vuol dire che poi fa cagare non vuol dire fa cagare però Skyrim è stata una delle mie esperienze puoi aspettarti trovare una lista di difetti così puoi aspettarti qualcosa di diverso che a una persona magari gli può far cagare perché se vuole andare a fare l'esploratore nello spazio ed esplorare non serve a un cazzo capisci che un pochino può essere un gioco di merda per lui grazie Leona ma che poi la soggettività esiste in tutto ed è bene che ci sia cioè io ti posso dire Lanciarti 2 è quasi perfetto sì magari tu lo giochi ti spacchi le palle dopo due ore cioè ci sta quella soggettività poi ci sta esattamente come un'opera quasi perfetta a livello tecnico ti può far cagare soggettivamente anche un'opera mediocre magari ti può piacere talmente tanto che diventa il gioco preferito l'importante è essere onesti intellettualmente se parli con se io se dovessi consigliarlo a voi un gioco che mi piace tanto vi direi comunque i difetti che ho riscontrato per onestà intellettuale verso di voi che vi fidate di me nel chiedere un consiglio poi ti può piacere lo stesso ripeto io Skyrim l'ho amato ma ti tiro fuori veramente un papiro di problemi che ha Skyrim però è stata una delle esperienze videoludiche più più profonde più belle della mia vita nonostante tutto non bisogna mai accontentarsi però perché se no se ti accontenti tu iniziano ad accontentarsi anche loro i giochi sono sempre mediocre e non va bene è bene invece che escano ogni tanto delle cose come Baldur's che sì con le loro problematiche ma cose magari che fanno avvicinare la gente a questo gameplay particolare eccetera infatti Pokémon campa di questo fa cagare sotto molti aspetti ma la gente si diverte comunque lo gioca io per primo sì però esattamente come dicevo prima è lo stesso motivo per cui mi incazzo da morire con Pokémon proprio perché mi piace mi incazzo ancora di più che altri giochi perché dico ma è possibile che tutti fanno dei giochi decenti e Pokémon deve far sempre cacare proprio per mi incazzo proprio perché ci tengo altrimenti non me ne fregasse nulla direi vabbè stica essendo un giocatore praticamente solo di LOL non ho problemi a dire che il gioco più bello al mondo è una merda vabbè questo è un altro discorso esatto Gianluca me ne abbiamo già parlato e che viene sempre da tirarlo fuori Pokémon perché è quel gioco che fa incazzare tutti ma lo compriamo sempre perché siamo dei piccoli bastardi e gli vogliamo bene i Pokémon però sempre così però non accontentatevi mai ragazzi da questo punto di vista perché appunto se vi se vi poggiate voi sul cuscino poi si poggiano anche loro e dormite tutti e non è giusto bisogna sempre stare un attimino su e capire cosa si può migliorare perché magari quel gioco che per voi è stato quasi perfetto magari in un futuro può diventare veramente perfetto a livello tecnico o magari no perché per due o tre minuzie ma sarà comunque un giocone invece se si adagiano tutti sugli allori è la fine ma poi ripeto se voi mi chiedete Marco mi consigli quel gioco io non potrò mai non dirti i difetti laddove ci fossero un manga o un'opera ma perché mi viene spontaneo perché dico guarda anche se è stata la mia cosa preferita è giusto che magari voi sappiate che ci potrebbero essere delle barriere che a voi potrebbero fermarvi è giusto così che magari per me non sono magari a me non mi hanno fermato ma è giusto che io le comunichi a voi perché magari per voi quella lì potrebbe essere un problema insormontabile ci può stare a me il gioco che ha fatto cagare quest'anno è stato Zelda e sono mega fan della serie ma infatti ma ha un tuo amico che magari vedendo a quanta gente sta per esempio Zelda ha le sue problematiche vedendo se io dovessi parlare con un mio amico che solo adesso è riuscito a riparire i soldi e vuole giocare a Zelda e gli sono piaciuti tutti gli altri gli direi comunque guarda probabilmente come gameplay ti farà impazzire però c'è questo 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 e quest'altro che ho notato che non vanno bene però magari sai conoscendo il mio amico conoscendo che gli sono piaciuti gli altri Zelda gli direi guarda è comunque un gioco che ti potrebbe divertire tanto lato gameplay però stai attento perché ci sono questi problemati è onestà intellettuale cioè si può racchiudere con questa parola anche Cyberpunk quanta gente è piaciuta Cyberpunk nonostante tutti i problemi che ha ma è Vector cioè Vector che è impazzito per Cyberpunk comunque Digital Foundry non ha fatto ha fatto solo su Xbox i test no ho visto dei test in giro che ecco tipo la 2070 andava non andava a 60 primi tutto al minimo o quello del genere non lo so perché quelli di Digital Foundry sono solo li ha fatti solo su Xbox ecco non so comunque voglio giocare su Xbox vediamo altre notizie vado a vedere anche se ah la recensione di One Piece non parlerò io non voglio parlare di One Piece non c'è non c'è troppa ah c'è Embracer che è diventata la nuova Netflix che invece di chiudere le serie tv Embracer chiude gli studi come fossero carne da macello ha chiuso lo studio che ha fatto il nuovo come cazzo si chiama eh tozo tutti stupidi lul ah gta tarocco come si chiama Saint Row eh si il nuovo Saint Row ha chiuso lo studio del nuovo Saint Row e ha licenziato alcuni dipendenti di Gearbox Publishing quindi proprio ormai ormai è così Embracer c'ha 10.000 studi sotto di lei e via si Volition si era quella di Saint Row devo guardare se Luke ha messo delle notizie aspettate voglio correre perché poi c'è Starfield tanto disponibile anche il precaricamento di Baldur's Gate 3 su Playstation 5 sono curioso di vedere come esce eh perché se è buono lo prendo lì voglio vedere come funziona eh non lo so perché col pad è un mezzo incubo secondo me infatti voglio capire Marco no stavo leggendo perché Luke ha scritto Barbie supera Thanos ma non è non è proprio così ha superato la prevendita di biglietti ma come vendita è molto lontana da Avenger infatti mi sembrava strano comunque è un miliardo e tre cross save perché il cross save hanno detto o almeno non so se è cross save però puoi trasferire i salvataggi tramite piattaforme poi Luke ha messo altre notizie allora con Synth ID di Google si palesano le immagini generate dall'IA vabbè ok poi abbiamo One Piece e Ichiro Oda pianto per il live action è la benedizione definitiva il live action di One Piece ha debuttato su Netflix l'impresa alquanto rischiosa come tutti gli adattamenti di manga e anime sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore proprio del suo creatore va bene Oda poi abbiamo Volition chiude i battenti mercato degli smartphone mai così male da dieci anni resistono solo gli iPhone a pochi giorni dalla notizia relativa alla sofferenza del mercato dei PC arrivano dati non certo esaltanti anche per il comparto degli smartphone il Worldwide Quartier i Mobile Phone Tracker di EDC infatti conferma che il 2023 sarà l'anno peggiore del decennio in termini di venti non c'è evoluzione da dieci anni per i telefoni però gli iPhone proprio come stato sociale vendono comunque strano per il bambino io non ho capito perché il PC cioè sì lo capisco in realtà è perché ha avuto il boom catastrofico durante la pandemia il mercato del PC perché tutti si sono fatti il PC e c'è stato il disastro dei componenti non ci stavano dietro più perché tutti gli servivano il PC per lavorare da casa e robe del genere e adesso che però è tornato alla normalità minimo storico cioè capisco che hanno già tutto preso tutti però minchia non me l'aspettavo adesso che sono tornati i prezzi normali all'incirca vabbè c'è altro? no allora gli ezzar prego almanaccami ok l'ordine primo settembre santigidio anche ieri mi parlo vabbè san giosuè san lupo di sens san nivardo san rischio di capua santommaro tammaro anzi tammaro credo tammaro sia addirittura san terenziano santa audiutore santa realdo di breccia santa colomba santa egidio il protettore di zoppi le brose e balie poi 1902 debutta in francia il primo film fantascientifico della storia si chiama il viaggio nella luna dura circa 14 minuti ed è stato realizzato da George Mellis basato sul soggetto di Gilberto neanche sei anni fa compravi con 400 euro una scheda video con 8 giga di ram è tutto in proporzione 1981 l'IBM lancia sul mercato il primo personal computer il 5150 ha usato il processore Intel no non si è sentito ancora mi sa che stai laggando però non sto laggando niente perché niente lo sento da dio 8088 1985 la spedizione franco statunitense riesce a localizzare il relito del Titanic eccolo qua 2005 la Sony lancia sul mercato europeo la sua console portati la PSP che in Giappone era uscita lo scorso dicembre negli USA a marzo che è uscita quasi un anno dopo ed ha funzionato solo lì no la PSP la prima era andata la prima era andata la prima era andata 2006 Lussemburgo il primo paese a completare il passaggio del segnale tv da quello analogico a quello digitale 2008 Google annuncia la distribuzione del proprio browser basato su Chromium nel 2008 nati oggi 1922 Vittorio Gasman fortissimo Gasman Vittorio nel 23 Rocky Marciano nel 31 Sandra Mondaini nel 62 Ruth Gullit nel 94 Carlos Sainz Junior nel 96 Zendaya mia sorella non credo probabilmente il primo settembre l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione e target l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare eh beh sì quello che parla sempre non ascolta è peggio di quello che invece ti ascolta e trae qualcosa da quello la 1070 costava 379 dollari quindi in euro più di 400 la e poi parli prima del problema la 6700 XT costa 373 euro su Amazon quindi probabilmente in giro si trova anche a meno e poi è dato al 2016 ricordiamo che in mezzo ci sono stati anche milioni di problemi tra transistor di storage o una cosa del genere sì la l'inflazione comunque c'è con 500 euro ti prendevi una scheda con i controcoglioni stanno per ritornare a quel prezzo lì già adesso con 500 ti prendi una scheda con i controcoglioni volendo quasi eh la 4070 è intorno ai 600 eh infatti quindi considera che c'è esiste quella cosa chiamata inflazione esiste quella cosa chiamata purtroppo è airflex adesso 16 giga di ram vi servono per forza diciamo che di base sì no di ram video di ram video ah di ram video diciamo diciamo che sarebbe meglio averli ecco quello sì è dentro le giornate Eliezer che non no no continua pure giornata delle buone maniere sul posto di lavoro giornata dell'apprezzamento dei gatti rossi giornata nazionale del vino chianti giornata nazionale delle mamme pigre giornata nazionale del tofu e giornata mondiale dello scrivere lettere a mano chianti sì è toscano sì sì va bene non l'ha fatta la doppiare se costava 400 all'epoca adesso costa 500 ricordo ragazzi c'è stato il problema del transistor e quello non è che è finito il problema continuerà per sempre quel problema anzi più si va a grampi tu hai vinto il giveaway o hai vinto non hai vinto il nostro 300 euro richi grampi vuol dire che non hai partecipato al nostro quindi non ti voglio ascoltare no esatto e cioè il problema di transistor sta continuando e continuerà per sempre considerate che ho fatto l'esempio l'altra volta in giappone non danno neanche più le tessere quelle per la metro perché non hanno più i chip non puoi partecipare anche al nostro cioè gli unici prezzi che adesso sono adesso si può penso di nuovo che per il momento sono una merda nel mercato dei componenti del pc sono le schede madri che per me non hanno senso avere quei prezzi lì mi ricordo nel dieci anni fa che ti facevi un pc con una scheda madre bravo allora la scheda madre la pagavi 80 euro adesso se ne vuoi una decente ne devi spendere 200 non hanno senso le schede madri quello quello no hanno 7000 cazzi in più e una scheda madre adesso anche quella base ha tutte le puttanate di una scheda madre di fascia più alta però è un senza senso quelle cose lì però le schede video ragazzi stanno tornando a dei prezzi decenti ci sono abbassate di molto adesso e sono una 40 e 60 a 300 euro ci sta poi magari caleranno ancora caleranno ancora la gente comprava anche durante la pandemia prezzi allucinanti ma adesso costano la metà di prima rispetto alla pandemia la pandemia però non va neanche contare costano sempre un pochino di più di pre pandemia ma è anche comunque con tutti i problemi che ci sono stati era ovvio che aumentassero ma comunque rispetto a pre pandemia adesso attualmente non sono così molto più alti prezzi no no le memorie le memorie per dire non sono mai costate così poco cioè adesso un ssd da un tera gen 4 te lo paghi 50 euro ragazzi da un tera cioè non è niente gen 4 è il più veloce che c'è sulla piazza adesso per dire i prezzi sono buoni sono potrebbero ancora calare quello indubbiamente ma comunque Marco dai senti un po' avogba 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 Pier Silvio Berlusconi vacanze con tutta la famiglia tra Francia e Corsica il magazine Key pubblica le immagini dell'amministratore delegato della Mediaset con i suoi cuccioli vabbè non è un un papacane con i suoi piccoli è una persona con dei figli veri effettivamente andiamo avanti con Noemi Bocchi questa doveva essere prima di quella lì perché è una notizia relativa alla famiglia Totti o Blasi Noemi Bocchi compie 39 anni da Francesco Totti una dolce dedica social l'ex calciatore posta uno scatto di coppia per festeggiare la compagna bene probabilmente gli ha detto au au mi sembra se non sbaglio andiamo avanti con Elisabetta Canalis che si arrabbia sui social per il caso della capretta uccisa a calci la sciogoro nelle storie Instagram chiede giustizia puntando il dito contro gli autori sadici, disgustosi e crudeli sono d'accordo qua con Elisabetta Nazionale bravo andiamo avanti con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese amici sui social l'alleanza degli ex di Belen non credo siano amici sui social i due ex di Belen comunque andiamo avanti abbiamo Elodie super sexy sui social manda la rete in tilt questo l'ha scritto se non sbaglio un 94enne se non sbaglio quest'articolo qua sono abbastanza sicuro andiamo avanti con i due momenti a marcord che mi stanno molto a cuore soprattutto il secondo il primo è il pupazzo ambrogio e la radio portatile a bim bum bam nel 90 e poi abbiamo Max Gazze disturbato dai comici di Mai dire gol mentre cantava la favola di Adamo ed Eva favola di Adamo ed Eva bellissima bellissima basta ho finita ho finita ho finita allora Marco il guess the game si che è Candy Crush andiamo? però non un Candy Crush qualunque secondo me secondo me è proprio Candy Crush non l'aveva già fatto Candy Crush Candy Crush però boh io metto Candy Crush Candy Crush e basta non Saga era Candy Crush Saga però me l'ha preso lo stesso quindi ok grandi bellissimo Candy Crush mio gioco preferito eh sì passiamo al guess the sughero vediamo dove mi portano queste coordinate questa volta a me è partita la sigla con Sugoi dove c'è delle coordinate vicino a Cindy a Cindy Ricky non Ricky scusa Pasqui c'è Pasqui ecco non c'è target quello scherzato dove c'è il Madev Temple ma non credo cosa dovrei vedere qua ho zoomato al massimo ma c'è il Madev Temple cazzo è pienottone forse se metto grazie Pierottone vediamo no sono dei campi non so cosa vabbè non importa eh c'è non c'è una sega praticamente c'è lo Street View non c'è niente va bene così vabbè il Kip Termolo io l'ho già indovinato non ve lo dico SK Enus è venuto fuori ahhh SK Enus cos'è SK Enus SK Enus SK Enus boh vabbè amici fatemi sentire la clip ma mia io provo ribrezzo per il genere umano voglio nascere animale è più bello solo io adesso quindi mi conformate tra l'ultimo io l'ho già indovinato la latina sbilenca si ah è Fall Guys si parla Marco sono mi qualcosa dai si con Karim tra l'altro madonna è una delle prime era questa è 2020 ah si no l'ultima volta l'abbiamo fatto un anno fa tra l'altro 11 settembre 2020 madonna il gioco è stato fatto da noi l'ultima volta un anno fa 5 settembre 2020 chi di chi sei joke di chi oh adesso torniamo alla serietà adesso un attimo dobbiamo riprendere in mano il nostro destino cos'hai fatto? no adesso ah no ok pensavo avessi fatto partire una sigla che non si sentiva chiudo il termo giorn si stasera moro come fare una cosa distensiva dopo la tua live finito la live a giorni fort così facciamo fort bella dai ci stanno dobbiamo fare altro dobbiamo fare stasera due sparatorie cosa dobbiamo fare? c'è il day one day ragazzi ci vediamo questa sera con gli altri due adesso invece starfield dai fort tra due sparatorie